Ciao a tutti, io sono Mario e benvenuti sul mio canale. Oggi voglio raccontarvi la mia strategia di investimento per uno dei miei due portafogli. Ma prima di iniziare... Questo è il disclaimer. Le mie strategie di investimento sono scelte personali, e personali significa adatte solo e soltanto alla mia situazione finanziaria. Ma personali significa anche che non posso essere sicuro a priori che le mie scelte di investimento si trasformeranno in un guadagno certo. L'unica certezza che ho, al contrario, è che non potranno mai essere le scelte migliori possibili. Ci sarà sempre qualcosa di meglio da comprare ed un momento migliore per vendere. Non prendetelo come un consiglio di investimento, dato che non lo è, ma fate le vostre analisi e riflessioni prima di prendere ogni singola decisione. Bene, ora possiamo iniziare. Sto parlando del mio portafoglio numero 1, Long Term, che ovviamente ho ribattezzato così perché si tratta di un portafoglio di lunghissimo periodo. Vi starete chiedendo ovviamente Mario, ma lungo quanto? Lunghissimo. E perché mai ho immaginato un periodo di investimento così lungo? La risposta qui purtroppo è dura, perché non so domani il mercato dove andrà, e se qualcuno di voi lo sa me lo scrivesse anche qui nei commenti e vediamo se indovina. Ho pensato questo portafoglio per investire e non disinvestire mai. Poi ovviamente vi starete chiedendo, ma perché Mario, ma perché non ti metti i soldi in tasca magari quando sei in guadagno, oppure non tagli le posizioni quando sei in perdita? E voi chiamate, ritornando, ma chi è quest'artista? Perché mi chiedi quei soldi? Ma che ha fatto nella vita? Beh, il motivo c'è e ve lo racconterò man mano nel corso del video. E quali sono quindi i soldi che posso investire in un periodo di tempo così lungo? Attenzione, non ho detto quanti, ho detto quali soldi. Sì, perché i soldi non sono tutti uguali. Ci sono quei soldi che servono per fare la spesa, i soldi che servono per pagare le bollette, quei soldi che servono per comprare un'auto, per andare in vacanza, e così via. E poi ci sono quei soldi che non ti servono. Ecco, proprio quelli. Io intendo proprio quei soldi lì. Se non hai soldi che non ti servono, allora è presto per pensare all'investimento. In questo caso ti consiglio di farti due domande. La prima è, ho fatto tutto il possibile per mettere da parte qualcosa? E la seconda è, ma proprio tutto, tutto, tutto? Ecco, se la risposta è sì, allora niente. Rispetto, al momento ci sono cose più importanti a cui pensare piuttosto che all'investimento. Tornando a noi quindi, perché proprio quelli? Perché solamente quelli? Perché, come dicevo all'inizio, questo portafoglio è pensato per investire e non disinvestire mai. E quindi va da sé che dovrà contenere solamente soldi che sono sicuro che in futuro non mi serviranno. Ve lo dico subito, fermi tutti. Se pensate di trovare formule magiche, formule segrete che vi faranno guadagnare in poco tempo e senza fatica, bene, bloccate il video e cambiate canale. Se siete rimasti ancora qui, allora andiamo avanti. Regola numero uno. Non avere paura. Qui si apre un mondo, ma fidatevi, la paura è il primo nemico dell'investimento. Cioè ci fa fare scelte sbagliate, scelte avventate, un casino. Ci fa comprare quando dovremmo vendere, vendere quando dovremmo comprare, cioè un casino. E se vi state chiedendo come fate a sapere se questa scelta fa per voi, come fate a sapere se avete veramente paura, vi aiuto io con un esempio. Provate ad immaginare per un attimo di avere 100.000 euro. Che già, insomma, non è male. Immaginate di averli investiti tutti nel mercato azionario. Una mattina vi svegliate e vedete un bel segno meno. Meno 50%. Che fate? Come reagite? Che fate? Come reagite? Che fate? Come reagite? Eh no, lo so provare molto. Se il primo istinto è quello di aprire la finestra e lanciarvi giù, allora niente. Questo tipo di investimento non fa per voi. La sensazione di malessere è insopportabile. Se invece, diciamo, la prendete bene, quindi insomma, bene un cazzo, però, se invece la prendete bene, abbastanza bene, 50.000 euro sono tanti, ma è un investimento di lungo periodo, quindi ci può stare, allora andiamo avanti. Andiamo alla regola numero 2. Investire i soldi il prima possibile. Anche qui è un bel cinema. È difficile, lo so, e anche io per primo non ci riesco. Quando vedo il mercato che sale, niente, proprio non ci riesco a mettere i soldi dentro. E sbaglio, e sbaglio. Asino. Sono un asino. E merito la fusticazione, non lo so. Io infatti credo fermamente in questi tre principi. Primo principio, nel lungo periodo il rendimento dei soldi investiti è superiore a quello degli stessi tenuti in banca. Vabbè, direte grazie, e questo è facile. Eh no, è mica tanto. Io tra 30 anni non sono in grado di prevedere quale sarà lo scenario economico, ma credo nessuno. Non a caso ho inserito la clausola nel lungo periodo che è la mia clausola di salvaguardia. Oggi potrebbe essere più conveniente tenere i soldi cash, ma questa ovviamente è una visione miope. Quindi quello che faccio è affidare i miei soldi al mercato e passare al principio numero 2. Tutte le asset class si muovono in base alle previsioni sui futuri scenari economici. Beh, come si dice, non può più avere per sempre, no? E soprattutto il detto mai una gioia in borsa non vale. Infatti nel corso della storia il mondo è andato avanti, mica mi è andato indietro. Gli uomini hanno sviluppato nuove tecnologie, hanno innovato, migliorato le condizioni sociali, quelle sanitarie, la ricchezza di generazione in generazione è aumentata. E perché dovrei iniziare a pensare che da ora in poi non sarà più così? Il mondo andrà indietro, regredirà. Il progresso stimola la crescita ed il benessere. Che a loro volta producono altro progresso che stimola altra crescita, altro benessere e così via. È una ruota che si autoalimenta. Ed il mercato, nel suo insieme, segue proprio questo motore. Principio numero 3. L'asset class nel lungo... E l'ho risbagliato, sono c***o. Rewind. Principio numero 3. L'azionario è l'asset class che nel lungo periodo offre rendimenti maggiori. Nel passato è stato così. Certo, i rendimenti del passato non possono fondere indicazioni sui rendimenti futuri. Ma per le sue caratteristiche intrinseche, ai blocchi di partenza, è il corridore favorito. Sì, anche perché non stiamo parlando di altro che di tutte quelle aziende che ogni giorno, con la loro produzione, con la loro capacità di fare business, creano valore. Sono il motore dell'economia. La maglia che tiene insieme il mondo così come lo conosciamo. Sono quelli che concretamente mi permettono di registrare questo video. Che mi permettono di condividerlo. Che spediscono i miei pacchi direttamente a casa. Che mi connettono con i miei amici. Che mi fanno viaggiare in due ore da Roma a Parigi. Che forse riusciranno a cambiare il mondo. O forse no. E potrei andare avanti così all'infinito. Prova, prova. Se. Se. Quarto ed ultimo principio. Questo è bello. Nessuno riesce a distinguere la schiuma dalla birra. Non è farina del mio sacco. Rubicchiato in verità sul blog di Jim Collins. Immaginate che qualcuno stia versando la vostra birra all'interno di un bicchiere opaco. E che non riusciate a guardare all'interno. Quindi quanta schiuma c'è? Quanta birra c'è? È impossibile stabilirlo. Ecco, questo è il mercato. La birra sono le aziende con la loro capacità di creare valore, delle quali noi come azionisti ne possediamo una parte. La schiuma invece è tutto quel rumore di fondo, i prezzi giornalieri del mercato azionario, che aumentano e diminuiscono senza un reale motivo tutte elucubrazioni mediatiche e mentali. Quindi qual è il principio? Che alla lunga è la birra che conta e la schiuma lascia il posto alla birra. Bene, ci siamo. Se siete arrivati fino a qua, allora meritate il premio. Ecco perché non dovrei disinvestire mai. Non c'è una regola scritta, non c'è una formula. Dipende dal fine ultimo. Dipende dalla motivazione per cui qualcuno si imbarca in questa impresa, si imbarca nel mondo dell'investimento. Nel mio caso specifico, personale, disinvestire è più rischioso che restare investiti. Infatti io non voglio guadagnare 500 euro, 1000 euro, 2000 euro, 10.000 euro, non voglio comprarmi una macchina, non voglio andare in vacanza. Voglio raggiungere la libertà finanziaria. E preferisco accettare il rischio di vedere il mio portafoglio dimezzato piuttosto che correre il rischio di restare fuori dalla grande corsa verso la ricchezza. Dopo tutto questo pippone teorico, vi lascio in descrizione il link al mio portafoglio numero 1. Così diciamo potete toccarlo con mano, vedere nel concreto come sta cercando di realizzare quello che ho raccontato fino adesso. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e alla prossima!